Ben trovati da Andrea Lazzara con le previsioni del tempo di Arpal, un po' di nuvolosità soprattutto sui versanti padani, schiarite maggiori, prevalenti lungo la costa, per effetto di correnti settentrionali che in questo martedì 20 febbraio mantengono il cielo in prevalenza appunto soreggiato lungo e litorali nelle immediate zone antistanti, locali addensamenti invece nei bassi strati, nelle zone interne e sui versanti padani, non si escludono deboli, brevi e isolate, spolverate nevose in corrispondenza degli addensamenti più consistenti, venti forti dai quadranti settentrionali in progressiva intensificazione, mare poco mosso levante, localmente mosso apponente, in aumento fino a mosso, localmente mosso sotto costa, agitato, allargo, temperature massime stazionare lungo la costa tra 10 e 13 gradi, nelle zone interne tra 5 e 8 gradi, domani mercoledì 21 febbraio, nuvolosità tra il regolare e diffuso su tutta la regione, addensamenti sulle zone interne dove nella prima parte della giornata saranno possibili precipitazioni a carattere di spolverate nevose a fondo valle, deboli nevicate sui rilievi, venti in ulteriore aumento fino a generalmente forti dai quadranti settentrionali, localmente di burrasca, con locali raffiche fino a 80-100 km orari, mare in ulteriore aumento fino a molto mosso apponente per onda da nord-est, mosso levante, localmente agitato, allargo, temperature minime in aumento lungo la costa tra 5 e 7 gradi, nelle zone interne intono a 0-1 grado, massimi in diminuzione lungo la costa tra 9 e 12 gradi, nelle zone interne tra 5 e 7 gradi. Dopodomani, giovedì 22 febbraio, correnti, nord-orientali continuano a interessare la regione con nuvolosità tra il regolare e diffusa, addensamenti più consistenti nelle zone interne con deboli precipitazioni a carattere di spolverata o debole nevicata. Tali fenomeni potranno localmente estendersi alla costa con quota neve sui 200-400 metri, venti forti con locali raffiche di burrasca da nord a nord-est, mare poco mosso o mosso levante, mosso a ponente, localmente agitato, allargo, temperature minime stazionare lungo la costa intorno a 6-7 gradi, nelle zone interne intorno a 0-1 grado, massime stazionare lungo la costa tra 9 e 12 gradi, nelle zone interne tra 4 e 6 gradi. È tutto, seguite gli aggiornamenti sul sito www.arpal.gov.it e sulla pagina Facebook di Arpal. A risentirci!